Franco Fragassi, giornalista e scrittore, autore recentemente del libro dal titolo Quarto Reich. Innanzitutto grazie di questa preziosa anteprima. Cosa l'ha spinta a scrivere questo libro? Intanto è un piacere insomma anche perché crescere informandosi per quanto mi riguarda è una delle migliori realtà che ci siano in circolazione quindi contento. Cosa mi ha spinto? Mi ha spinto a... io mi sono occupato di questo tema diverse volte, è il terzo libro che scrivo su questo tema. Sono stato credo il primo al mondo a scriverne 26 anni fa. Oggi cosa mi ha spinto di nuovo? Mi ha spinto il tentativo di legare le cose perché negli ultimi anni sono accaduto di tanti eventi, eventi tutti separati l'uno dall'altra. In alcuni paesi del mondo ci sono state delle rivoluzioni o dei colpi di Stato, insomma, a seconda di come la si vede. Nel mondo sta avanzando, ci sono stati una serie di attentati, alcuni riconducibili all'islamismo, all'estremismo islamico, altri no. Ci sono stati... è in corso una vera e propria trasformazione nella società, in una società secondo me meno libera, in una società dove vale di più l'individualismo ma soprattutto aumenta la disuguaglianza e diminuisce lo spazio democratico in favore di sempre meno soggetti, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio politico. Tutti questi eventi sono tutti eventi separati. Quello che ho cercato di fare è cercare in qualche modo di dare una spiegazione a questa cosa, cioè di legare queste cose che apparentemente non hanno a che fare l'una con l'altra. È vero che sono cose separate, io non sono per mischiare tutto, però esiste un filo rosso che parte da 75 anni fa, cioè da quando finì la seconda guerra mondiale e porta a oggi, che in qualche modo lega una buona parte, non tutti, ma una buona parte degli eventi che ci sono capitati tra capo e collo, non solo in Italia ma in tutto il mondo. E questo filo rosso ha un nome, il filo rosso si chiama Odessa, che è un'internazione nera, ha origini nel Terzo Reich, ha origini nelle SS, però ha assunto un'altra forma ovviamente in corso di questi anni. Il libro appunto è incentrato su questa organizzazione internazionale, Odessa per l'appunto, di cosa si tratta? Spiegiamolo bene. Allora, Odessa nacque nel 1944, in agosto del 44 e nacque per volere dei dirigenti del Terzo Reich e per volere dei servizi segreti britannico e statunitense all'epoca. A che cosa serviva? Serviva sostanzialmente a perpetuare il, per quanto riguarda gli altri dirigenti del Terzo Reich, a mantenere la possibilità di poter raggiungere l'obiettivo che si erano posti con la creazione del Terzo Reich, ovvero far rivivere, far continuare a vivere il Terzo Reich altrove, non più legato a un paese, che era la Germania, ma in tutto il mondo, indifferentemente in un paese piuttosto che in un altro. E quindi far rivivere l'idea anche a guerra persa, e far sopravvivere le persone che avevano portato avanti con l'idea. I due servizi di credito occidentali, perché fecero una cosa del genere? Lo fecero perché sapevano che c'era un obiettivo comune, che era il comunismo, e loro vedevano nei nazisti e nei fascisti di tutta Europa, come la principale più efficiente e anche più istruita, più organizzata a mano d'opera che ci potesse essere nella lotta al comunismo. Queste due esigenze separate sono incontrate e da lì è nato ad essa, però ad essa non è solo una cosa politica o militare. È qualcosa che ha a che fare con la società, appunto. Il Terzo Reich era una visione di mondo. Lasciamo da parte, diciamo, la parte antisemita, lasciamo da parte la dittatura, quella militare, che poi c'è stata in tanti paesi in tutti questi anni, ma andiamo semplicemente alla visione. C'è la visione di un mondo, di un'elite, perché questo ha il senso, di un'elite migliore delle altre, che può essere un'elite di poche persone in un paese o può essere l'elite di una razza, come una razza ariana, rispetto al resto del mondo. Comunque il concetto di elite che governa sul resto del mondo che è incapace di fare questo. Allora, questo è invece un'altra cosa, cioè se noi per esempio lo mettiamo nel, introduciamo questo concetto nell'economia, abbiamo il neoliberismo. Adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo a tutta questa serie di, diciamo, di episodi e tutte queste situazioni. Leggendo il libro, uno dei capitoli scritti racconta il suo arresto in Ucraina. Che creato ha commesso? Quali correlazioni con l'odessa? Allora, in Ucraina mi fa un po' ridere il reato, perché il reato da me commesso è stato... Ironicamente un reato. No, no, per loro avevo commesso un reato, insomma, il mio reato era essere nemico del popolo ucraino. Allora, un reato del genere non mi stupirebbe se mi venisse, diciamo, contestato in Corea del Nord. Ecco, ma in un paese europeo, in un paese europeo, dove vige una democrazia, è surreale che venga contestato un reato del genere. Perché ero nemico del popolo ucraino? Perché avevo scritto semplicemente degli articoli approfonditi e avevo fatto delle inchieste su quanto era avvenuto nel corso dell'ultimo anno e mezzo, perché io fu arrestato nel 2015, quindi diciamo 2013-2014, nel corso di quel periodo lì, che cosa avvenne in Ucraina, ovvero avvenne un colpo di stato di matrice neonazista. Io raccontai questa cosa, lo documentai in tutti i modi possibili, venne invitato ufficialmente in Ucraina, proprio per parlare di questo, dal sindaco di Odessa, peraltro, perché secondo lui era la persona che, il giornalista nel mondo che aveva trattato meglio questo tema, del golpe in Ucraina e della sosteguente guerra civile, però secondo il governo neonazista all'epoca, io mi ero macchiato di questo gravissimo reato di essere nemico del popolo perché ho fatto il mio mestiere di giornalista. Allora, questa cosa è stata possibile, ripeto, che io la trovo allucinante, siamo là nel 2015, cioè di cinque anni fa, è stata possibile questa cosa cinque anni fa in un paese europeo, democratico, un paese che è in procinto, non sappiamo quando, ma è in procinto di entrare nell'Unione Europea, è in procinto di entrare nella Nato e per il quale non abbiamo fatto delle sanzioni alla Russia che ci hanno causato miliardi di euro di danni ogni anno. E io nel libro racconto, ci sono due capitoli, c'è un capitolo che racconta la mia storia, poi c'è un capitolo che racconta questo colpo di Stato in Ucraina, e in questo capitolo sul colpo di Stato io racconto nei dettagli come è stata organizzata e qual è l'origine di questa cosa, che parte appunto, parte alla fine della seconda guerra mondiale, parte a molto lontano, e di come Odessa, quindi l'internazionale nera, e abbia avuto un ruolo decisivo per quanto è accaduto in Ucraina, nel 2013, 2014, 2015, ma in realtà anche per quanto era accaduto in Ucraina negli anni precedenti, perché magari non molti se lo ricordano, ma ci fu nel 2004 una rivoluzione in Ucraina chiamata Rivoluzione Arancione, che portò alla Presidenza un Presidente democraticamente eletto, con una faccia tutta butterata, perché era stato, aveva accusato, credo giustamente, i russi di averla avvelenata in soprattutto era sopravvissuto, divenne Presidente, tra il giubilo di tutta la comunità internazionale, ebbene la moglie di questo Presidente era una conclamata nazista, cioè era una che si vestiva con la camicia bruna, faceva il saluto romano e diceva che Hitler era un suo punto di riferimento, questa era la moglie del Presidente ucraino, democraticamente eletto nel 2004, quindi come vedete è qualcosa che va anche più indietro nel tempo per quanto riguarda l'Ucraina. Ecco, per quanto riguarda questo colpo di Stato in Ucraina, lei scrive anche del coinvolgimento di Joe Biden, del neopresidente americano. Cosa è emerso dalle sue indagini? Quali le certezze che lei può documentare? Spieghiamo anche un attimo quello che è successo, proprio questo coinvolgimento di Odessa, anche seppur sommariamente. Allora, in Ucraina si sono incontrate due esigenze. L'esigenza degli ultranazionalisti ucraini, che diciamo hanno poco e differente dai nazisti, più o meno sono la stessa cosa, e l'esigenza degli Stati Uniti d'America. Allora, perché si sono incontrate? Perché entrambi questi soggetti hanno un nemico comune, che è la Russia, e quindi queste due esigenze si sono sposate perfettamente. Da lì è nata, diciamo, questa convergenza che ha portato a due rivoluzioni, una nel 2004 e poi una successiva nel 2013-2014. Entrambe queste rivoluzioni, il secondo è stato un vero e proprio colpo di Stato militare, ma entrambi hanno dietro una gigantesca macchina organizzativa di rivoluzioni, che io ho già documentato in un film, ma anche l'ho raccontato in tante sedie, che ho chiamato la fabbrica delle rivoluzioni, che è una macchina messa in piedi proprio dal Dipartimento di Stato, quindi una cosa totalmente ufficiale, non è una cosa, diciamo, un sotterfugio. Il Dipartimento di Stato, insieme ai due partiti, Repubblicano e Democratico, quindi totalmente bipartisan, ha messo in piedi questa macchina che produce rivoluzioni in tutto il mondo. E su questo io ho le prove su tutto, testimonianze, documenti, prove di soldi, qualsiasi cosa. Allora, la macchina statunitense si è messa in moto in parallelo con Odessa e il motore, nel caso specifico dell'Ucraina, di questa macchina statunitense fu allora il vice segretario di Stato, cioè il vice ministro degli esteri sarebbe in sostanza, che si chiama Victoria Nuland. Lei era il motore, cioè, proprio organizzativamente parlando, con lei che fece tutto quanto, però Joe Biden, che all'epoca era vicepresidente, fece da garante politico di quanto accadde in Ucraina, tant'è vero che lui fece tantissimi viaggi in Ucraina, prima, durante e dopo. Credo che nessun vicepresidente americano abbia visitato così spesso un paese nella storia degli Stati Uniti. Fece tantissimi viaggi e uno di questi viaggi, peraltro, secondo me, quantomeno sospetto, avvenne il primo maggio del 2014. Lui volò direttamente da Washington alla città di Odessa, manco a Kiev, cioè il vicepresidente americano che va in visita in Ucraina, quantomeno incontra il presidente. No, andò a Odessa per incontrare il capo della polizia di Odessa e il capo della criminalità locale di Odessa. Un vertice a tre, che è un vertice bizzarro, se posso permettermi, nel senso che il vicepresidente degli Stati Uniti che incontra due soggetti del genere in una città che non è nemmeno la capitale di uno stato straniero, lui fece questo viaggio, andata e ritorno. Il giorno dopo ci fu un massacro a Odessa. Adesso io non sto accusando Biden di essere il mandante di quel massacro, ma quantomeno lui il giorno prima ha incontrato i soggetti che compirono quella strage, che è stata una strage che ha portato centinaia di morti il giorno successivo. Aspetta, 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 aspetta un attimo. Quei soggetti cosa vuol dire? Perché lui incontrò il capo della polizia di Odessa. Il capo della polizia e il capo della criminalità locale. Perché però non era implicato in questa strage del giorno dopo, presumo. Sì, sì, tutte e due. Anche lui. Ah, tutte e due. No, non Biden. No, 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 sì, ho capito, il capo della polizia. Allora, la strage, il giorno successivo, venne compiuta una strage da parte della polizia di Odessa, della criminalità locale di Odessa, insieme agli ultralocali e delle squadracce neonaziste, perché in Ucraina nel 2014 c'erano delle, a parte c'erano dei partiti ufficialmente neonazisti, insomma, che stavano in Parlamento, ma c'erano proprio queste specie di squadroni della morte, non sapevamo come definirli, cioè delle squadroni che giravano, uccidevano le persone. Questi soggetti, insieme, esistono i filmati, ci sono decine, centinaia di filmati che mostrano questi qui che assaltano la casa, queste persone che assaltano la casa dei sindacati, dove si erano asserregliati i normali manifestanti, gente che manifestava, questi sindacalisti, ovviamente, la casa dei sindacati. L'hanno assaltata, sono riusciti a entrare, hanno torturato chi c'era dentro, hanno stuporato le donne e poi hanno bruciato vivo tutte le persone che c'erano. C'era una cosa orribile, una cosa spaventosa, che non ha trovato albergo nella stampa italiana, io ancora devo capire perché i medi italiani non hanno parlato della più sanguinosa strage avvenuta in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, se si esclude quella di Sabrenitz. Centinaia di morti, in maniera orribile. Allora, Biden il giorno prima ha incontrato alcuni dei soggetti che hanno partecipato a quella strage, è andato lì apposta, cioè non è che li ha incontrati per caso, è volato a Washington per incontrare queste persone e per tornarsene indietro. Io ripeto, non ho nessuna prova che Biden sia coinvolto nella strage odessa, forse non lo sapeva, non lo so, però è il viaggio più strano che ha fatto in Ucraina. Ha fatto stare che Biden ha fatto un sacco di viaggi in Ucraina in quel periodo e in cambio, io questo lo scrissi in molti articoli. In cambio, gli oligarchi ucraini premiarono Biden facendo entrare il figlio come amministratore legato di una delle più grandi società di gas del mondo, che si chiama Burisma, una società ucraina. Queste sono le accuse che ha mosso a suo tempo anche Donald Trump, accusando Biden di questo. Donald Trump ha detto tante, se posso dire, tante cavolate nel corso degli ultimi anni, ha detto tante cose assurde e non vere, ma questa forse è l'unica cosa sensata e vera che ha dichiarato in questi ultimi quattro anni. Io ne parlai addirittura prima, ne parlai appunto nel 2014 di questa cosa, avevi diversi articoli sul tema. Scrive anche dell'attentato dell'11 settembre negli Stati Uniti. Cosa accadde? Allora, l'11 settembre, cosa accade l'11 settembre? No, quello è evidente. Che cosa accadde? Esatto, perché coinvolge anche lì. Odessa aveva una struttura, diciamo militare, cioè aveva una struttura militare, una struttura politica e poi una struttura economica, cioè non si tratta di un'organizzazione di quattro reduci vecchietti, sfigati, eccetera, si è evoluta, in forti questi 65 anni, ai nonni sono arrivati i figli, poi i nipoti, eccetera, sono entrate gente nuova, si è adattata ai tempi che andavano. Però una cosa è rimasta costante, l'enorme tesoro su cui ha potuto far conto, perché io prima ho accendato al neoliberismo, il nazismo è nato ed è arrivato al potere, più che è nato, è riuscito ad arrivare al potere, a prendere il potere in Germania, grazie a enormi finanziamenti che arrivavano dagli Stati Uniti, da alcune banche, alcuni multinazionali e alcune società finanziarie che vedevano nella Germania, giustamente vorrei aggiungere, come il campione economico produttivo dell'Europa. Quindi noi abbiamo pensato andiamo in Germania, troviamo il carro giusto, in quel caso l'hanno trovato in Hitler, ci leghiamo a quel carro e dopodiché facciamo soldi, perché se la Germania si riprende ne facciamo un sacco di soldi. Così il nazismo è arrivato al potere e ha mantenuto il potere grazie a questi affari che hanno continuato, secondo me in maniera quasi surreale, a esistere anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando di aziende statunitensi che finanziavano o che favorivano la ricchezza del paese cui esercito sparava sui loro compatrioti, perché c'erano militari statunitensi che erano sbarcati in Normandia. Se i tedeschi potevano permettersi di sparare addosso ai militari statunitensi, lo dovevano anche ai soldi che arrivavano dagli Stati Uniti. È un cortocircuito che sembra assurdo, sarebbe alto tradimento in un paese normale, in un'altra situazione che si fosse scoperto una cosa così. Dunque il fatto sta che questa connubio anche di aziende, anche di aziende, di banche tra il Germania e Stati Uniti, ha fatto sì che quando scapparono in massa dal Germania e dall'Europa, i nazisti e i fascisti, si ritrovarono coproprietari, coazionisti di alcune delle più grandi multinazionali americane e quantomeno alleati dal punto di vista ideale con quei soggetti che poi innescarono il motore del neoliberismo. Tant'è che quando ci fu uno dei più riusciti, forse uno dei più riusciti Friedman, che è uno dei fondatori del neoliberismo, uno dei pensatori del neoliberismo, che arrivò con i suoi economisti e applicò alla lettera le teorie neoliberiste nel Cile Pinochet, perché c'era una sorta di simbiosi. Allora, l'11 settembre è un... adesso non vorrei raccontare tutto l'11 settembre perché diventa complicato e lungo, però per come lo vedo io è un colpo di stato planetario, cioè il 11 settembre c'è stato un golpe, si è avvenuto un golpe, non a livello statunitense ma a livello mondiale. E in un golpe che ha portato, che ha accelerato in qualche modo la strada verso il neoliberismo, perché il neoliberismo non è solo una cosa economica, ma è una cosa che riguarda tutta la società, riguarda anche la politica. Allora, l'11 settembre che ha accelerato il processo verso, diciamo, il dominio neoliberista, se vogliamo semplificare, ha avuto ovviamente un ruolo anche Odessa quale? Non quello di mettere i suoi uomini, perché quelli lì ci hanno pensato gli estremisti islamici, ma è quello di mettere a disposizione la rete finanziaria che aveva costruito. Odessa godeva di... c'erano alcuni banchieri che stavano in Svizzera o in altri paesi che avevano tessuto questa rete di banche dove circolavano questi soldi, in alcuni casi legali, in altri casi illegali, che comunque finanziavano spesso cose illegali come le stragi, eccetera, eccetera. Uno di questi banchieri, che era diventato il banchiere all'epoca, nel 2001, il banchiere diciamo di riferimento di Odessa, è uno svizzero che si chiama Ahmed Uber. Ahmed perché in realtà lui aveva un nome svizzero normalissimo, ma si cambiò il nome in Ahmed perché si convertì all'Islam. Io andai a trovare Uber a casa sua e quando entravi la cosa che ti colpiva, che non poteva non colpirti, era subito dopo la porta d'entrata c'era un enorme ritratto di Osama Bin Laden e un enorme ritratto di Hitler, uno accanto all'altro. Chi lui credeva che Hitler fosse islamico, questa è una sua idea, quindi si era islamizzato per questo motivo. Vado a stare che questo banchiere, Ahmed Uber, è il banchiere che ha gestito i finanziamenti dell'11 settembre, perché come tutti gli attentati, gli attentati costano tra le varie cose, perché c'è dietro un'organizzazione, voi immaginate un'organizzazione come l'11 settembre che è il più grande attentato della storia, è stato particolarmente costoso. Ecco, i soldi per finanziare l'11 settembre sono passati e stati gestiti dalla banca di Uber, che peraltro era una banca italiana, tra le varie cose. Questa è un'altra questione. Proprio parlando adesso di neoliberismo e di internazionale nera, come lei ci ha spiegato fino adesso, possiamo fare anche qualche esempio concreto di persone di primissimo livello che sono coinvolte, oltre a quelli fatti da lei fino a questo momento, soprattutto a livello di banche, o comunque di multinazionali. Allora, qualche esempio l'IBM, la Kodak, o qualsiasi cosa oggi si è trasformata in Kodak, la Monsanto, non so, ho fatto qualche esempio insomma. Queste sono tutte grandi multinazionali che hanno i loro vertici coinvolti in questa internazionale nera? Che hanno fatto affari prima con il Terzo Reich, poi con Odessa e sono entrati in simbiosi, nel senso che sono, non so come dire, hanno trovato, i nazisti sono diventati azionisti di queste multinazionali, le SS diventano azionisti di queste multinazionali, quindi erano proprio soci in affari, ecco. Una particolarità del libro appena scritto è che a un certo punto lei scrive anche di un tentativo di colpo di Stato in Italia nel 1981 che fu poi scoperto ma di cui quasi nessuno ha mai esplicitamente parlato. Cosa accade di preciso? In realtà non è stato scoperto, nel senso che questa è la cosa sorprendente, nel senso che nel 1981, nel marzo del 1981 vennero scoperti gli elenchi della loggia P2, perché due magistrati, Colombo e Turone, Colombo è stato poi lo stesso che ha indagato su Gladio, tanto per capirsi, alcuni dieci anni dopo. Questi due magistrati hanno deciso di perquisire la villa di Gelli ad Arezzo, di Vicio Gelli, il gran maestro della loggia Propaganda 2, una sorta di tessitore che Vicio Gelli è stato un uomo chiave di Odessa, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Allora, nel marzo vengono scoperti questi elenchi e ovviamente le persone vengono tutte messe sotto accusa in qualche modo, tutti i presenti in questa lunga lista di P2isti. Allora, non viene indagata la P2 eccetera eccetera, ma non si sta a nulla di più. Quando alcuni anni fa si intervistava Vicio Gelli, c'era l'ultima intervista fatta, rilasciata Vicio Gelli in vita, io non so se perché fosse l'ultima intervista, quindi voleva semplicemente togliersi, raccontare delle cose che non ha mai raccontato e che nessuno nemmeno sospettava, a un certo punto lui se ne esce dicendo che, maledicendo Turone e Colombo, dandogli i disgraziati perché hanno rovinato la storia, insomma eccetera eccetera eccetera, dal suo punto di vista ovviamente, perché lui stava già organizzato un vero e proprio colpo di Stato che sarebbe dovuto avvenire nell'estate del 1981 e la scoperta di quegli elenchi ha fatto saltare tutta quanta l'operazione. Lui è entrato anche nei dettagli, cioè lui ha spiegato che il suo golpe prevedeva centinaia di persone che devono sparire dalla circolazione, primarentemente politici, allora PC o del PSI comunque diciamo di sinistra, politici alcuni imprenditori, devono proprio sparire dalla circolazione per finire in alcune case che si trovavano in Sardegna, sotto custodia insomma, così l'ha definita la cosa. E questo doveva spienare ovviamente la strada in Parlamento per l'approvazione del suo piano, un piano che lui aveva pensato da tempo, che sia il piano di rinascita democratica, che era la sua visione dell'Italia, cioè una sorta di trasformazione democratica in una sorta di dittatura democratica, e lo so che sembra uno stimolo, però insomma se si va a votare ma alla fine quello che si vota non cambia le cose perché tutto il resto dello Stato è la Costituzione, la magistratura, qualsiasi cosa, tutto quanto imbrigliato è una vera e propria dittatura, cioè questo vuole fare i gelli sostanzialmente in Italia. E questo colpo di Stato è stato sventato senza saperlo, almeno Turone e Colombo non ne sapevano assolutamente un figo secco, sono sventato Turone e Colombo e Gelli si è uscito appunto prima di morire in questa maniera, facendo fare un salto sulla sedia a tutti quanti. Dopo il golpe in Ucraina, che è uno dei fatti più recenti che lei tratta nel libro, dalle sue indagini, ci sono stati altri fatti nel mondo che hanno visto il coinvolgimento dell'organizzazione Odessa? A parte queste correlazioni a livello di neoliberismo eccetera. Allora, Odessa è attiva in tanti modi, cioè non è che deve per forza fare un colpo di Stato. O eventi comunque clamorosi più che colpo di Stato, altri eventi che magari sono passati a livello di informazione. Allora, Odessa diciamo in qualche modo indirettamente ha preso il potere in Ungheria, perché Orban è una sorta di figlio di quell'organizzazione, non tanto lui, lui si spaccia per democristiano, ma non è che deve essere per forza, non deve essere scritto fascista o nazista sulla fronte. Diciamo sia lui che i vari presidenti polacchi che si sono succediti in partita del potere sono figli di questa organizzazione. Come ci hanno provato in Grecia, al Badurata, insomma in senso in molti paesi, specialmente i paesi dell'est Europa o in Germania con l'ARD, ci sono una serie di partiti che sono entrati nei vari parlamenti che hanno pure preso il potere in diversi paesi e stanno condizionando anche l'Europa, perché noi stiamo vedendo quanto la Polonia, l'Ungheria, la Slovacchia, i paesi baltici eccetera eccetera, condizionano alla fine il nostro paese, tutta quanta l'Europa, anche nelle scelte nostre interne alla fine. Ecco, quello che sta facendo, diciamo la cosa più clamorosa è quest'ondata che sta crescendo in Europa, cioè loro piano piano si stanno insediando, hanno creato una testa di ponte e stanno entrando pesantemente in Europa. Adesso vi faccio un ultimo esempio, quello di quanto è accaduto in Bielorussia, in Bielorussia non so se vi ricordate, la scorsa primavera sono stati manifestazioni e quant'altro, non è manco la scorsa primavera, inizio autunno, fine estate inizio autunno. Allora io all'epoca, quindi qualche mese fa indagando su chi stava organizzando in Bielorussia le cose, mi resi conto che in Bielorussia i organizzatori delle manifestazioni di questa specie di rivoluzione popolare in Bielorussia erano esattamente le stesse persone che hanno organizzato il golpe in Ucraina qualche anno prima. Esattamente le stesse persone. Allora, fino adesso in Bielorussia non gli è andata bene perché ovviamente la Russia ha messo il suo peso e è riuscita a resistere, però credo che questo sia il tentativo più recente di Odessa di fare qualcosa di scardinare un altro paese europeo. Qualche correlazione tra Odessa, l'organizzazione internazionale Odessa e la pandemia con cui stiamo combattendo in quest'ultimo anno? Allora, una relazione diretta? No, nel senso non è che Odessa ha sparso il Covid in giro per il mondo, però legati alla vicenda Covid ci sono tutta una serie di soggetti, principalmente sono dei soggetti di Wall Street. Mi riferisco a grandi società finanziarie, mi riferisco a una fondazione che fa delle ricerche estreme, delle ricerche estreme nel senso che questa fondazione si occupa di trasformare i virus in virus chimera, trasformarli nella peggior versione di se stessi per testare quanto possano essere pericolosi, sono cose che fanno anche i laboratori militari, però questa è una fondazione civile. Sono esperimenti che sono vietati in quasi tutto il mondo, però in alcuni paesi no e questa fondazione ovviamente li fa nei paesi in cui non sono vietati e diciamo questi esperimenti come questi fatti in Cina sempre da questa fondazione potrebbero essere, non c'è stata ancora nessuna prova, come causa del diffondersi del virus in giro per il mondo, come alcune società finanziarie che stanno dietro alla produzione di mascherine, alla produzione di respiratori, alla produzione dei vaccini eccetera eccetera eccetera. Allora perché parlo di questo riferendosi a Odessa? Perché come ho detto prima c'è una simbiosi tra un certo tipo di capitale e questa organizzazione Odessa. Allora i soggetti che stanno dietro questa fondazione, non tutti ma una parte dei soggetti che stanno dietro questa fondazione e una parte di queste grandi società finanziarie che stanno dietro, che posseggono sostanzialmente la nostra cura, la nostra protezione del virus, sono soggetti che hanno sì questi a che fare e hanno avuto a che fare molto con Odessa. Quindi non so se esista una relazione diretta, non so neanche Odessa ha organizzato la pandemia, sarebbe folle da parte mia dire una cosa del genere, però diciamo che gli amici di Odessa o forse anche con l'aiuto di qualche soggetto di Odessa che io al momento non conosco perché non è che ho la lista degli aderenti, se no sarei già da un magistrato, non so come dire, hanno sicuramente beneficiato di questa pandemia dal punto di vista economico e io credo anche dal punto di vista politico e di potere, nel senso che il mondo post-Covid sarà molto più vicino a quello sognato da Odessa che a quello sognato da noi cittadini democratici del mondo. Adesso abbiamo fatto un quadro ovviamente credo abbastanza esaustivo del libro, dove è possibile acquistarlo? Allora, il libro è edito da me, faccio tutto da me oramai, è distribuito da me, quindi non lo potrei trovare da nessuna parte se non da me. Allora, quindi per averlo dovete scrivermi, mi scrivete un'e-mail alla mia e-mail personale, francofracassi1-gmail.com, uno al numero, francofracassi1-gmail.com. Io ovviamente vi risponderò e vi spiegherò come si fa ad avere il libro e ovviamente essendo io colui che spedisce tutti quanti i libri agli acquirenti, ogni libro la dedica, quindi se voi mi dite pure a chi volete dedicarlo, magari è un regalo, io farò la dedica a quella persona, questo è scontato, tutti i libri saranno venduti con la mia dedica personale, la persona che li ha acquistati, che così è una cosa in più insomma, oltre ad avere installare a chi interessa un rapporto pistolare con me.